20, 21, 22 e 23 maggio la rassegna cinematografica CONOS che prevede due film, i primi tre giorni fin su palladio e il terzo giorno fin conversazioni atomiche. Vi aspettiamo in particolare martedì 22 la proiezione sarà preceduta da un'interessantissima lezione da parte del professor Paolo Clini dell'Università Politecnica delle Marche e invece giovedì 23 fin conversazioni atomiche molto curioso e molto particolare sarà seguito da una conversazione con il regista Felice Farina e con un professore universitario molto molto quotato quindi in fisica, quindi vi aspettiamo. Dove e il programma dove si trova per chi lo vuole seguire? Allora ci trovate al Cinema Malatesta e Politeama, il programma lo trovate sulla pagina Facebook di CONOS e poi lo trovate sul sito www.conos.it e sul sito potete anche prenotare i vostri biglietti scontati grazie a CONOS.